Ciao ragazze, video veloce dalla cameretta dei miei bimbi, vi volevo ricordare domani sera alle 21.30 sulla pagina ufficiale di La Fan Professionale in Facebook c'è la live che ci presenterà Marco Sorrentino con la nuova collezione Inverno. È una bomba ragazze, ve l'assicuro, io l'ho già provata, è veramente, veramente bella molto originale come vi ho già detto e strafighissima, quindi non perdetevela, vi aspetto il 16 novembre alle 21.30 tutte collegate su Facebook, vi metto giù nell'info box il link diretto dell'evento, ci sarò anche io che seguirò appunto insieme a voi lo spacchettamento e anche alcune decorazioni che ci faranno vedere a tema natalizio e quindi niente, volevo ricordarvelo, non perdetevi, vi aspetto lì, domani 21.30 Facebook, ciao!